Spider-Man è probabilmente in questo momento il supereroe più amato e conosciuto al mondo. Un aspetto veramente curioso di questo personaggio è che la sua natura, la sua essenza in un certo modo, ha una forte componente non solo fantastica, ma direi proprio fantascientifica. Infatti questo personaggio è molto legato all'ambito scientifico. In alcune rappresentazioni fa il dottorato, in altre uno studente che viene colpito in un laboratorio molto spesso, ma un aspetto interessante è che la natura dei suoi superpoteri partono da due presupposti scientifici, uno biotecnologico e l'altro di tipo, diciamo, fisico. Ecco, oggi vorrei proprio analizzare questi presupposti e usarli come una scusa per parlare di svariati temi scientifici. Alcune di queste idee, che sono state veicolate anche attraverso i film, probabilmente almeno un po' sono entrate a far parte anche del nostro immaginario collettivo, tanto che sono presenti anche in altri film di successo, come magari, che non so, Jurassic Park o altri. Ecco, tutto questo ha senso, secondo me, analizzarlo, anche perché in generale, soprattutto nel caso di Spider-Man, tutti questi presupposti sono per lo più sbagliati. Vediamo quindi il primo aspetto veramente problematico di Spider-Man, e che riguarda la sua genesi in moltissime rappresentazioni. Il ragno geneticamente modificato, che è scappato dalla teca, morde uno studente e lo modifica a sua volta geneticamente. Ecco, questa rappresentazione ovviamente nasce da una visione ingenua, veramente, delle biotecnologie. Il trasferimento di geni, o di modificazioni genetiche, da un individuo a un altro, è qualcosa di molto più difficile di così, e soprattutto molto meno vistoso. Da una parte c'è un problema proprio concettuale. Sembra veramente facile la possibilità di trasferire delle capacità complesse, come per esempio diventare superforti, o imparare ad arrampicarsi, per esempio, sui muri, grazie a un semplice trasferimento, in qualche modo, genetico. Ecco, questa rappresentazione, che è spesso erronea delle biotecnologie, è molto presente nell'ambito cinematografico. A me viene in mente Jurassic Park, in cui per esempio c'è questa cosa, e anche lì viene rappresentata in modo troppo semplice, o ancora peggio nel nuovo rilancio di Jurassic Park e Jurassic World, in cui questa cosa sfiora dei livelli veramente imbarazzanti. Ecco, trasferire dell'informazione da una specie a un'altra è possibile, ma molto spesso è difficilissimo, e soprattutto quando si fa, si fa in cose veramente molto piccole, non cose così tanto vistose. Ingegnerizzare geneticamente un organismo è veramente difficile, e negli ultimi decenni gli esseri umani, grazie alle biotecnologie, hanno imparato a farlo, ma a farlo con una certa difficoltà, perché ci sono tanti livelli e ostacoli diversi da riuscire a superare per riuscire a ingenerizzare un individuo. Pensate che anche solo lo scoglio di riuscire a fare entrare del materiale genetico all'interno di una cellula, di un organismo, che sia vegetale o animale, è una cosa difficilissima, e sono state sviluppate tante tecnologie diverse per riuscire a farcele. Alcune che sono veramente assurde, come la bioballistica, che è una roba che tu dici, questa cosa non ha assolutamente senso, che consiste letteralmente, letteralmente, nel sparare delle palline d'oro con una pistola, dentro a delle cellule, in modo che del materiale genetico possa penetrare dentro la cellula rompendo la membrana. Questo vale soprattutto per le cellule vegetali. È qualcosa di molto difficile, altro che il morso di un ragno. In altri casi si può aiutare la penetrazione del DNA con delle scariche elettriche, con dei batteri ingenerizzati apposta per inserire del materiale genetico all'interno di una cellula vegetale, per esempio. E questo è il primo problema. Poi c'è il secondo problema, ed è se anche io riesco a inserire un gene, perché già inserire un gene, capite, è difficile, spesso quello porta a una modificazione molto specifica. È difficile che un gene, o due geni, o tre geni, possano portare a chissà quali cambiamenti morfologici, come diventare l'uomo ragno. Lì ci vuole probabilmente un cambiamento massiccio di centinaia di geni che devono anche riuscire a essere integrati bene, perché devono riuscire a funzionare in concerto tra loro. È sostanzialmente impossibile. In questo momento, quando si prova a ingenerizzare un organismo, per vari motivi, tendenzialmente si cerca di farlo su meno geni possibili, magari geni chiave, che spesso magari permettono di produrre una proteina in più, produrre una molecola in meno, un recettore in più, un recettore in meno, non cose così complesse come diventare l'uomo ragno. E poi c'è un altro motivo, per cui tutto questo è veramente assurdo. Proprio per questa profonda difficoltà che c'è nel riuscire a penetrare dentro una cellula, modificare il DNA, sperare che questo DNA si integri nei posti giusti, sperare che non vada in altre zone, faccia dei danni, crea quindi delle eventuali anche problematiche, no, all'individuo, questo vale per le piante, ma vale anche per gli animali, proprio per via di questa difficoltà, è sostanzialmente assurdo, è difficilissimo riuscire a ingenerizzare un individuo intero. È sostanzialmente assurdo che se anche io vengo morso da un ragno, questo, il materiale genetico che per esempio mi inietta, possa andare a modificare tante cellule in giro nel mio corpo. Sarebbe già un miracolo se riuscisse a modificarmi qualche cellula in quella zona lì. E infatti molto spesso quando si vuole provare a creare delle modifiche genetiche in degli organismi, di solito si parte dagli embrioni, si parte da una cellula, poche cellule, e si prova a fare delle modifiche genetiche. E da lì, una volta che ci sei riuscito con poche cellule, allora si può provare a far crescere l'individuo e a quel punto ottenere un individuo con tutte le cellule modificate. E anche in quel caso è difficilissimo. Non so se vi ricordate la notizia che io ho coperto al tempo del caso delle bambine modificate geneticamente dal ricercatore cinese. Caso famosissimo e in questo momento anche molto problematico, ma lo abbiamo già parlato abbondantemente. In quel caso era stata fatta una modificazione su degli embrioni a 32 cellule. Ecco, anche in quel caso, in una delle due bambine, la cosa non era andata completamente a buon fine. Alcune cellule erano state modificate, altre no. Il che ovviamente, capite, è assurdo. Se già iniziamo ad avere problemi con 32 cellule, quando abbiamo a che fare con miliardi, ecco che allora capite bene che c'è un problema praticamente. Quindi ecco, se volete fare una versione accurata di Spider-Man, così non può andare. Il morso del ragno non va bene, deve partire fin da bambino a essere ingegnerizzato per diventare l'uomo ragno. Ma anche in quel caso non avremo l'uomo ragno. Perché poi c'è l'altro presupposto che è anche più problematico. E anche forse più interessante. Infatti l'altro presupposto di Spider-Man, che sembra sensato, ci suona veramente bene, è scientificamente molto più sbagliato. Infatti l'idea di base di Spider-Man è questa. i ragni sono animali molto particolari. Sono animali che si trovano in giro per tutto il mondo e che fanno tutta una serie di cose, tra cui anche essere molto forti. Riescono a sollevare, muoversi, spostare pesi che sono in proporzione al loro peso giganteschi. Cose che in proporzione ai nostri pesi ci fanno impallidire, come se noi potessimo tranquillamente sollevare delle macchine. D'altro canto riescono a salire sui muri, semplicemente, praticamente quasi toccando i muri. Cosa che noi non possiamo fare. Ecco, un uomo ragno sarebbe fortissimo, perché sarebbe un uomo con le caratteristiche di un ragno. Poi ci sono anche altri supereroi che si muovono un po' su questa falsa riga, tipo Ant-Man, ma vabbè, Ant-Man ha anche dei problemi molto più profondi, ma oggi parliamo di Spider-Man. Se ci suona bene, no? L'idea di prendo le caratteristiche di un ragno e le metto a un essere umano e quindi mi aspetto che le cose funzionino, ho una buona notizia per voi. C'è un problema legato alle cosiddette dimensioni di scala o proporzioni di scala. Infatti sto parlando di un concetto fondamentale in fisica, ma che ha delle implicazioni profondissime, soprattutto in ambito biologico. Ci sono tutta una serie di fenomeni scientifici, biologici, che si possono spiegare semplicemente constatando un fatto che alcune grandezze non tendono a crescere linearmente. E voi mi dite che cosa stai dicendo, Giacomo? Ve lo spiego subito. Un esempio classico è quello del rapporto superficie-volume, un concetto banale, ma che ha delle implicazioni veramente profonde su tantissimi aspetti, anche banalmente sul come non morire di freddo. Se non state guardando il video, in questo momento vi invito a guardare. Immaginate un qualsiasi oggetto con una forma ben definita, per esempio un cubo. Un cubo ovviamente ha una superficie e ha un volume. Un fatto interessante è che all'aumentare delle dimensioni del cubo la superficie aumenta e anche il volume aumenta, ma il volume aumenta molto più velocemente. Perché? Perché il cubo aumenta alla terza, ok, mentre la superficie aumenta alla seconda. Quindi banalmente lo stesso cubo con un lato doppio, quindi il doppio più grande, avrà una superficie quattro volte più grande e un volume otto volte più grande. In proporzione, il volume è aumentato molto di più della superficie. Quindi, in altre parole, tanto più un oggetto cresce, tanto più il rapporto superficie-volume tende a calare. E per esempio, il rapporto superficie-volume è un dato importantissimo per tantissimi fenomeni. Per esempio, la capacità di scaldarsi di un oggetto. La velocità con cui il calore entra dentro un oggetto è proporzionale alla sua superficie, la quantità di materiale che invece si deve scaldare è proporzionale al volume. Quindi, cosa succede? Un oggetto molto grande, quindi con un più basso rapporto superficie-volume, tenderà a scaldarsi molto più lentamente rispetto a un oggetto più piccolo. O viceversa, a raffreddarsi più lentamente. Quindi ecco che 8 cubetti di ghiaccio tendono a sciogliersi molto più velocemente che gli stessi 8 cubetti messi insieme in un cubo di lato doppio. Nel primo caso, la superficie è molto maggiore nonostante il volume totale sia esattamente lo stesso. E voi direte, cosa c'entra questo con Spider-Man? Perché molti dei ragionamenti riguardanti Spider-Man riguardano proprio fenomeni di scala di questo tipo. in particolare per quanto riguarda la forza e il peso. Infatti, negli animali, la forza è proporzionale a una superficie. Che superficie? La sezione del muscolo. Ma il mio peso, invece, aumenta con il volume del mio corpo. Quindi se io divento molto più grosso, il mio peso diventa molto maggiore rispetto alla mia forza. Quindi un animale, tanto più è grande, tanto più in proporzione deve avere dei muscoli grossi per poter supportare meglio il proprio peso. E quindi ecco che, per esempio, le cosce di un tirannosauro in realtà erano gigantesche e anzi, probabilmente, uno dei limiti strutturali alla grandezza dei dinosauri, soprattutto quelli non acquatici, era in larga parte dovuto a questo. Cioè che a mano a mano che aumentava il loro peso, i muscoli devono crescere in proporzione molto di più. E a un certo punto, ovviamente, c'è un limite. Non è che posso avere un dinosauro tutta coscia per portare il peso della praticamente stessa coscia e del resto del corpo. Ed è qui, quindi, che si gioca un po' tutta la situazione. Anche un tirannosauro non avrebbe mai la forza di sollevare tre volte il proprio peso. Mentre un essere umano molto allenato probabilmente ce la può fare. Ecco, un ragno che è ancora più piccolo può sollevare proporzioni del proprio peso ancora più grandi. Ma per nessun mistero. Semplicemente perché è più piccolo. E in quella scala le proporzioni tra la massa e tra la forza sono in quell'ordine di grandezza. Immaginate quindi di prendere un ragno, aumentarlo a dimensioni umane mantenendo le proporzioni della larghezza delle proprie zampe, per esempio. Ecco, immaginatevi in una scena del genere un ragno di quel tipo probabilmente si accascerebbe sotto al proprio peso. Perché è proporzionato alle forze di scala a cui è abituato. Ecco, alle nostre grandezze i loro muscoletti non sarebbero all'altezza di tenere il proprio peso. Quindi ecco, l'unico modo che avrebbe Spider-Man per avere le proporzioni di forza di un ragno sarebbe quello di essere grande quanto un ragno. Allora sarebbe però un supereroe un po' del cazzo. E anche, per esempio, arrampicarsi sui muri nasce da questa incomprensione. Anche lì c'è un problema di scala. Quindi, purtroppo, la scena bellissima dello Spider-Man di Raimi in cui gli si compaiono i peletti e inizia ad arrampicarsi sui muri è erronea. Perché? Perché le forze elettrostatiche che tengono su Spider-Man o meglio che tengono su un ragno sono proporzionali alla superficie di contatto mentre il peso è proporzionato al volume di un individuo. Quindi, di nuovo, il volume aumenta molto più velocemente di una superficie ed è il motivo per cui se io provo a arrampicarmi su un muro sembro uno scemo. E quindi capite bene che Spider-Man non ha senso. Dopodiché, a me piace molto fare questi video che hanno anche molto a che fare con le altre scienze come per esempio la fisica e non solo. Una cosa che devo imparare a fare è che devo veramente darmi come obiettivo a imparare a consigliarvi altri miei video che ho fatto su temi simili. Per esempio, ho fatto un video sull'effetto loto che è veramente molto interessante. Recuperatelo e anche lì parlo di questioni fisiche che in parte hanno anche a che fare un po' con questi fenomeni anche se leggermente diversi. Quindi vi invito a recuperarlo molto semplicemente. Vi metto il link nel primo commento o fra poco vi compare il letteralmente tipo un video qua potete cliccarlo e guardare anche quello. Inoltre vi ricordo che questo progetto è supportato anche dall'aiuto di tante persone che mi fanno delle donazioni ricorrenti su delle piattaforme molto specifiche. Si parla di TPI vi lascio tutto in descrizione è veramente molto semplice ci sono anche delle cose in più che volete recuperare in questo momento e poi che caricherò nelle prossime settimane d'altro canto la stessa cosa vale per Patreon o se volete invece fare semplicemente delle donazioni una tantum c'è sempre Paypal vi lascio tutto in descrizione. E quindi vi saluto e vi lascio al video sull'effetto all'oto se avete voglia di vederlo. Ciao a tutti quanti!